continuiamo con il nostro percorso dedicato al ritocco degli occhi allora siamo rimasti a quel discorso relativo al creare l'ombra interna all'occhio in questo caso abbiamo un occhio abbastanza chiuso abbastanza sottile quindi ribadiamo il concetto che non è necessariamente un passaggio fondamentale importante ci interessa però capire che può essere fatto e come può essere fatto il secondo passaggio ha a che fare con l'iride quindi la parte interna del nostro occhio quella che alla quale dobbiamo conferire la luminosità vera e propria allora andiamo sul livello che abbiamo duplicato e con la maschera veloce facciamo la solita selezione del nostro del nostro livello ora preleviamo il nostro colore che ci serve per fare la selezione e con il nostro buon pennino andiamo a fare la giusta selezione del della dell'iride anche qui utilizzando il pennino possiamo dosare la l'opacità della maschera in modo tale da crearci una maschera sufficientemente sfumata per non avere dei contorni eccessivamente come dire rigidi questo in questo senso ancora una volta il pennino della tavoletta grafica ci viene in grande aiuto perché possiamo dosare la pressione fatto questo passiamo all'altra iride e lavoriamo alla stessa identica maniera vedete come è tutto molto più veloce allora passiamo bene bene intorno alla zona che ci interessa ho commesso un errore ma premendo il tasto x sulla tastiera non faccio altro che invertire i colori che sto utilizzando e ripassare le zone che mi interessano in modo tale da coprire tutta la superficie dell'iride anche questo caso il consiglio è quello di non esasperarvi troppo con la precisione proprio perché vedrete nel passaggio successivo che non ci interessa che la cosa sia estremamente estremamente rigida avremo la possibilità comunque di intervenire su eventuali errori fatti benissimo finita la nostra creazione della maschera veloce ripremiamo il tasto q della tastiera e invertiamo la selezione questo perché perché facciamo un bel control c è un bel control v per duplicare il contenuto della nostra selezione quindi nel dettaglio abbiamo duplicato semplicemente l'iride della nostra modella ok allora fatto questo il passaggio al quale ci dedichiamo è l'applicazione di una maschera di contrasto andando sul menu filtro contrasta maschera di contrasto ecco i valori che vedete qui impostati non sono a caso per cui stiamo esagerando abbastanza con il caricamento del del contrasto possiamo stare anche su un valore di 29 o addirittura 3 con una soglia però piuttosto bassa se avete bisogno di capire meglio come funziona la maschera di contrasto andate a vedervi uno dei tutorial che abbiamo realizzato apposta su questo argomento per comprenderlo meglio benissimo una volta fatto gli diamo un bello ok e vedete che ci sono ancora effettivamente delle parti che sono nient'altro che il frutto dell'imprecisione che ci siamo concessi poc'anzi no durante il lavoro con la maschera veloce bene non facciamo altro che prendere lo strumento eraser o gomma o semplicemente ruotare la nostra pennina digitale della tavoletta bambù o intuos al secondo di quello che state utilizzando se siete alle prime armi vi consigliamo naturalmente la bambù fan come primo inizio se invece siete già dei belli espertoni dei belli smanettoni beh allora gettatevi assolutamente su intuos quadro benissimo fatto questo vedete che il l'effetto di contrasto che gli abbiamo applicato è decisamente potente potremmo anche fare una leggerissima riduzione qui quindi non facciamo altro che abbassare l'opacità per rendere il tutto un pochettino più realistico vediamo il tutto da una prospettiva più ampia direi che l'opacità potrebbe essere abbassato ulteriormente e godiamoci un attimo la differenza per capire quanto abbiamo effettivamente guadagnate luminosità beh direi molto e questa al buon senso e alla capacità visiva al gusto personale di dosare comunque l'opacità in modo tale che l'intervento non sembri eccessivo teniamo sempre come punto di riferimento il livello originale per valutare l'intervento e valutiamo anche adesso a questo punto la presenza o meno dell'ombra che abbiamo inserito nel tutorial precedente vedete che attivando la visibilità la visualizzazione del livello ombra quello che succede che l'occhio si chiude ulteriormente mentre togliendola l'occhio si apre molto di più questo diventa veramente molto importante da decidere da valutare quando abbiamo a che fare con questa tipologia di occhi quindi occhi sottili piuttosto chiusi che hanno già comunque un'importanza relativa ma siamo molto fortunati perché abbiamo l'occhio chiaro mentre quando abbiamo un occhio particolarmente aperto un occhio un po più importante possiamo allora decidere di utilizzare questa sorta di ombreggiatura interna per dare ulteriore profondità in questo caso non lo utilizziamo non per altro ma perché ci interessa che essendo un occhio sottile appunto l'occhio rimanga più luminoso più aperto e acquisti senz'altro più importanza